Lei è l'avvocato di Berlino, lo ha avuto, ma non lo sento da almeno due anni, da quando è sparito, non so come potrei aiutarlo. È interessante, perché sappiamo che comunica con lui telefonicamente. Non so di cosa stia parlando, se mi avete messo il correccolo sotto controllo, ci sono una bella cosa. Ho messo un'intercettazione, lo ringraziamo tramite un'altra. Giusto oggi, starei per dire. Ho notato che ovunque sia stato esiste una chiamata corrispondente al suo ufficio. Volverà a stare senza capire, e come suo avvocato dovrebbe sapere che è un suo interesse. Questa conversazione è finita. Oh, bene. Bene, sì. E lei più tempo si vuole, più mese si arrabbierà, come si deve. Che io cosa è un mese? È la cacciaficità che gli sta per prendere lì. Sì, e quando finalmente troverà quel poveretto, lo deciderà a facendere tanti piccoli pezzi. Sarà fantastico. Non può farlo. No, sì, di certo la forza non le manca, vero? Sì, insomma. Ma la taglia deve essere riportata viva, o basta la testa, perché è la sua caratteristica. Magari potremmo rincollargliela alla consiglia. Non potete farlo. Tiene molto a lui, a quanto sembra. Ma certo. È il mio cliente. Ma dimmi, signorina Beronessa, perché la sua incontentità è così importante per te? Io, io no. Oh, sei formidabile come suggerisce il tuo bel completo, ma tranquilla, a me vuoi dirlo? Io lo so, che so, che mi parlo. Io lo amo. Lo ha aiutato a sfuggire alla polizia e io gli faccio avere le soldi in pancola. Ah, davvero? È un assassino a sangue e freddo. Come l'ha convinto a quello. Voi non l'avete mai incontrato. Non è come ci si è strappato. È affascinante. E quando ti guardano gli occhi, non è importanza chi tu sia. Di fronte a lui mi sembra indifeso. Oh, mi scusi. L'ho scoppiata per padre. Sì, li vediamo qui.